Prepariamo insieme pasta salsiccia e zucchina. Per fare la pasta zucchina e salsiccia lavate e spuntate le zucchine quindi tagliate la metà e poi a tocchetti. Tagliate a metà anche i pomodorini tagliate a pezzi la salsiccia aglio e olio in padella versate le zucchine aggiustate di sale e pepe aggiungete un filo d'acqua e anche i pomodorini e lasciate cuocere soffriggete la salsiccia con aglio all'oro sfumate col vino bianco aggiungete la salsiccia alle zucchine col pomodorino nel frattempo cuocete la pasta in abbondante acqua salata quindi eliminate l'aglio trasferite la pasta al dente nel condimento aggiungete un mestolo di acqua di cottura della pasta mescolate e procedete con la cottura la nostra pasta zucchina e salsiccia è pronta per essere servita e gustata grazie per aver seguito anche questa video ricetta alla prossima ciao